Opla eccoci qui ciao amici ad xs2 games e benvenuti in questo nuovo video io sono michele e ragazzi oggi voglio Ringraziarvi a tutti per essermi stati così vicino in questi giorni in cui non sono stato bene e vi spiegherò tra un attimo Cosa avuto però voi siete stati veramente meravigliosi qui su youtube su instagram su facebook tanti messaggi bellissimi che mi sono anche stampato e mi conserverò ragazzi perché siete veramente Fantastici e voglio quindi fare questo video per spiegarvi cosa avuto e scusarmi Scusarmi di cosa del fatto che nei prossimi giorni ovviamente non potrò caricare tutte le recensioni Unboxing di video che volevo pubblicare devo ancora recuperare bene però Cercherò di fare qualche blog qualche video molto semplice che spero possa comunque piacervi ragazzi comunque cosa ha avuto martedì scorso Mangiando del burro di arachidi a cui non sono allergico mi si è bloccato tutto in gola il burro di arachidi Stavo diventando viola abbiamo chiamato l'ambulanza Hanno risolto tutto non sono morto soffocato e c'è un'ambulanza un'allarme non lo so ok e dicevo che ho scoperto poi con queste analisi che ho anche una brutta bronchite quindi Le vie respiratorie si sono ristrette e non riuscivo bene a respirare a deglutire a mangiare e quindi c'erano questi pericoli Di soffocamento insomma ora sto prendendo degli antibiotici Sto migliorando piano piano però lo sapete gli antibiotici vi fanno stare bene da una parte però dall'altra hanno 3000 effetti collaterali Come i brufoli che mi stanno uscendo un po di stanchezza Insomma devo recuperare per bene ragazzi però poi tornerò più attivo che mai Dove recuperare anche la voce che come sentite un po Ridotta ho ancora poca aria però piano piano ragazzi tornerò qui a fare le recensioni che non mi piace No che vi piacevano tanto mi hanno fatto davvero 3000 analisi qui a bari Compreso questo il mio bellissimo torace che non vi faccio guardare perché credo sia ora di pranzo E' nulla ragazzi voglio ringraziarvi ancora per tutti i vostri bellissimi messaggi Noi ci vediamo Non so se domani o dopodomani ora vediamo qualche video che riuscirò a realizzare in queste condizioni però ce la farò ragazzi per voi perché Voi mi siete sempre vicini e io voglio essere vicino a voi il più possibile Con questo bene non sono ancora morto è nulla ragazzi grazie ancora alla prossima ciao belli Grazie